Grazie. 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 L'ultimo incontro è anche sul tappeto B e poi andremo a seguire l'ultimo comunque sul tappeto C e poi con le regge alle 15.30 per la prima volta puntuale per la cinque nuova di apertura e poi soprattutto andremo a seguire il finale. Grazie. 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 per andare a consacrare questi nuovi campioni di quest'edizione, Giorgio Pigneto e anche di questa torna internazionante da Pisassa, riservato dal wrestling stilumino maschile. Giorgio Pigneto e anche di questa torna. Giorgio Pigneto e anche di questa torna. Giorgio Pigneto e anche di questa torna internazionante da Pisassa. Giorgio Pigneto e anche di questa torna internazionante da Pisassa. Giorgio Pigneto e anche di questa torna. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.